Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo Smart Working Space, questo credo sia il mio sesto appartamento, questo è un appartamento un po' più grande, comunque più bello degli altri, è abbastanza signorile se vogliamo, qui ha un accesso al cortile, vediamo se riesco a farvi camminando così ve lo faccio vedere, scusate la barba, oggi non ho avuto voglia di farmela, c'è uno spazio divano, l'ufficio se lo sogna, stavo ragionando appunto sul fatto che questi spazi spesso hanno dei vantaggi rispetto anche agli uffici, una bella televisione, camminiamo così, allora qui ci sono in realtà due stanze e un bagno, non sto neanche lì a girare, vi faccio vedere velocemente, è una zona completamente inutile per me, quindi qua ci sarebbe tranquillamente una chiave che chiude così non c'è neanche il rischio che venga utilizzata, l'angolo ufficio sarebbe questo, vedete al di là della finestra c'è una sedia, eccolo ho spostata perché è comunque scuro per me, io ho bisogno di molta luce, infatti ho spostato d'accordo col proprietario, ho detto lavoro dalla stanza e ho messo qui il mio angolino ufficio, vedete eccolo lì, dove ho un po' di luce dalla finestra che dà su una strada, ve la faccio vedere adesso, è una strada molto rumorosa con tram eccetera, però hanno messo le finestre, insomma le doppie finestre, quello che è, si vede molto bene, bagno molto carino, ok, e addirittura balcone dove posso ogni tanto venire a rilassarmi, molto rumoroso appunto perché c'è sta strada molto centrale, però, va bene, non credo che ci lavorerò più di tanto da qui, però è bello avere anche uno spazio fuori. Però volevo fare un ragionamento che non ho mai fatto finora, abbiamo sempre dato per scontato che l'appartamento venisse affittato da una persona, per cui una persona ha un budget limitato, in realtà si stanno configurando delle situazioni nelle quali qualche collega che non tornerà in ufficio potrebbe dire ragazzi perché non prendiamo dal lunedì al venerdì un appartamento e sto ragionando e quindi c'è un budget più alto, no? E qui quante persone potrebbero lavorare in questo appartamento, per esempio, sempre confrontandolo con gli spazi in ufficio? Io credo almeno tre, almeno tre in questi spazi, poi vediamo le altre stanze, non ancora pensarci. Allora, qui c'è un grandissimo tavolo che è sproporzionato per la cucina, per cui un angolino lì può diventare ufficio. Qui va bene il divano, ogni tanto è bello buttarsi, altra cosa che in ufficio fai fatica a fare, buttarti giù anche perché devi far finta di lavorare per otto ore. Qui c'è un angolo ufficio e qui c'è l'altro angolo ufficio che vi ho fatto vedere prima. Vediamo se... anche qui c'è spazio, ma qui in questa stanza no, non c'è un angolo, ma si può fare, in questa stanza neanche. Ok, quindi sono tre stanze, però, scusate, tre posti lavoro, però se uno deve fare una call in silenzio si può spostare. Ecco, questo potrebbe essere un'alternativa all'ufficio, più bella dell'ufficio, più comoda, ci si può fare il caffè, ci si può mangiare qualcosa, si può ordinare da fuori che venga un delivery, eccetera, eccetera. Cominciamo a ragionare su questi spazi come alternativa agli uffici che hanno delle caratteristiche superiori agli uffici. Qui internet è condiviso con due o tre persone, per cui forse anche più veloce dell'ufficio. Non lo so, sono tutte cose nuove, ok? Quindi ragioniamoci, potrebbe essere un appartamento che anche quando finisce la crisi e tornano i turisti, fa affitto dal lunedì al venerdì a chi lavora e sabato domenica è turisti, magari in bassa stagione. In un'altra stagione chiudi tutto e fai solo il turismo. È l'ibrido quello che fa la differenza, ecco. Quindi questo è un ragionamento. Poi volevo fare un'altra proposta perché si è pensato in trips di dire ma perché non regaliamo a chi fa parte del progetto la possibilità di fare pubblicità al proprio annuncio. Quindi voi sapete che in Smart Working Spaces non ci sono commissioni se fate la vendita direttamente. Quindi se il cliente vi contatta via telefono o via mail voi fate tranquillamente la transazione e non ci sono commissioni. Tra l'altro sono tutte cose locali quindi è facile che se uno comincia a fare qualche giorno finisca a farlo anche per parecchio tempo. Quindi è gratis, è una cosa che abbiamo provato a fare così gratis. Le commissioni scattano se prenotano all'interno del sistema quindi ci sono i costi di PayPal. Qualcuno potrebbe voler dire ok io voglio spingere il mio appartamento e fare della pubblicità. Potete fare degli annunci Facebook, linkarli o al vostro sito o al vostro annuncio in Smart Working Space oppure potete dire fate voi ok ci date io di non so minimo 50 euro. Prendiamo i 50 euro lì reinvestiamo completamente in pubblicità su Facebook targettizzando il vostro quartiere o comunque la zona che andiamo a ritenere di interesse magari assieme. E quindi pubblicizziamo verso il vostro annuncio. Chi clicca sulla pubblicità in Facebook sta cliccando esattamente sul vostro annuncio. Voi mettete i soldi della pubblicità verso il vostro annuncio noi ci mettiamo il lavoro gratis. Perché? Perché abbiamo interesse che si faccia comunque pubblicità anche al sito stesso. Ecco potrebbe essere un'idea che vi interessa? Questo ovviamente funziona perché siamo al momento non abbiamo investitori nel progetto quindi non c'è nessuno che vuole veramente guadagnarci. A noi piace così in questa fase. Se invece questo progetto a un certo punto attira l'attenzione degli investitori e gli investitori vogliono rientri. Quindi cominci con le commissioni alte, cominci a non lasciare il contatto diretto eccetera eccetera. Proviamo a fare una cosa invece dalla base, ok, dai 50 euro in su, ci mandate 50 euro, noi li rinvestiamo, vi diamo tutte le prove di averli rinvestiti in pubblicità, vi diamo anche i risultati, i clic eccetera eccetera e magari riusciamo a mettere in piedi un sistema che non è diciamo targetizzato all'estrazione del valore che creiamo ma che sta in piedi in maniera diciamo indipendente. Quindi questa è una proposta, un'idea, siamo in grado di implementarla molto velocemente, volevo solo chiedervi intanto se ha senso o se invece preferite l'approccio classico e quindi andiamo a prendere i soldi degli investitori, li rivestiamo in Facebook, Google e vi mandiamo clienti però a questo punto probabilmente costerà di più insomma. È un dilemma diciamo, sono due opzioni molto diverse ecco, questa è un po' la domanda, poi magari la formuliamo meglio eccetera, però già se vedete questo video e vi interessa l'idea dateci un feedback, cominciamo già a ragionarci. Ciao! Grazie!